Vogliamo altre note, se no ti rubiamo gli occhiali unicorno e anche la voglia di vivere. Emo! Gli occhiali guai se me li toccate, la voglia di vivere ormai me l'hanno rubata quando sono nato. Comunque, per proteggere i miei occhiali unicorno, ecco un'altra carrellata di note scolastiche! Gli alunni lanciano il compagno fuori dalla finestra. Rip. I ragazzi della classe di fronte applaudono. Al mio ingresso in aula trovo una bambola gonfiabile che pende dal soffitto a testa in giù. L'alunno afferma, prof, lei sarà la prossima. Ho paura! Gli alunni rientrano in classe dopo la ricreazione con la bidella imbavagliata in braccio. Ma mi spiegate che vanno fatto ste poveracce? Ma che peccato! Un frigorifero è comparso oggi nella classe quinta E. Gli alunni sono visibilmente ubriachi alle 10.15 del mattino. Stima! L'alunno entra in classe a bordo di un carrello della spesa affermando di essere un treno. Cose che succedono sempre! L'alunno, durante la verifica di storia, lancia fagioli sulla sottoscritta! Ma come? L'alunno viene invitato a togliersi il cappellino. Se lo toglie e si mette il casco. Di bene in meglio. Raga, questa. Il bipede L, ruttando, dichiara di essere presente durante l'appello. Scusate, ma definirlo alunno è un'offesa al genere umano. Eeeh! Presa malissimo! Un cane randaggio è più educato di... Nonostante le numerose ricerche per l'istituto, l'alunno M risulta disperso. Se qualcuno conosce l'alunno M, ci faccia sapere se sta bene perché siamo preoccupati. Un alunno, non meglio identificato, giunge in classe vestito da clown e dopo aver urlato Ciao bambini! Esce dalla fine.